Il 16 giugno dalle 17.30 alle 22 a Massafra in piazza Vittorio Emanuele si svolgerà la festa della famiglia, un evento intitolato Chiamore di famiglia, proprio perché l'obiettivo è quello di coinvolgere tutta la famiglia a 360 gradi. È un'iniziativa a cui quest'anno il Comune ha voluto dare risalto, proprio perché l'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le famiglie del territorio, innanzitutto attraverso il gioco, che è un momento sì ludico, ma è anche un momento in cui si curano le relazioni familiari, ma anche e soprattutto per portare a conoscenza del territorio tutti i servizi a sostegno delle politiche familiari che il Comune di Massafra, l'ambito territoriale di cui il Comune capofila, eroga a favore della collettiva. E quindi ci saranno le unità di offerta per quello che riguarda le politiche dei minori e degli adolescenti e poi ci saranno le associazioni che hanno le convenzioni per quanto riguarda il disagio sociale e ci sarà il centro di ascolto famiglia ed educativa domiciliare che si occupa della famiglia con dei servizi specifici. Non solo, ma abbiamo pensato anche di coinvolgere tutte quelle organizzazioni che in qualche modo collaborano e supportano la famiglia, nelle politiche della famiglia e in tutte le fasce d'età, quindi dalla nascita fino anche all'età tardi, abbiamo anche il centro polivalente anziani e il comitato del centro polivalente.